Il governo regionale non si è fatto trovare pronto davanti all'interrogazione sulla vicenda dell'operatore Guardiafuochi, Salvatore Comandatore. Per mesi l'operaio ha ottenuto un sito infisso davanti ai Palazzo di Giustizia e ha rivendicato il diritto ad essere riassunto dalla società Archimede, che alla fine il giudice gli ha concesso. Ad oggi però non c'è stato nessun reintegro. Il parlamentare Ars di Sud chiama Nordism e la Lavardera si è rivolto al governo regionale presentando un'interrogazione sul caso, ma non ha ottenuto risposte e in aula ha mostrato tutto il suo disappunto. Alle due interrogazioni che io ho fatto, una sull'avviso 23, che è il comparto lavoro, e una di quel povero lavoratore che a Gela è stato, come dire, licenziato perché semplicemente si è rifiutato di sversare, di sversare in mare o dei liquidi diciamo che potevano essere in qualche maniera, come dire, lesivi per ovviamente insomma l'ambiente, mi rendo conto e dico ma perché l'assessore rispetto a questo tema che sulla rubrica lavoro non ha potuto dare risposta al buon comandatore che ancora oggi non è rientrato in servizio e questo è il modus operandi. Ecco l'ordine dei lavori, Presidente. Se ci sono le interrogazioni da rispondere, io pretendo che a quelle interrogazioni venga data risposta anche perché arrivano dopo mesi e mesi e mesi del nostro lavoro ed è svilente, mortificante rispetto a questo Parlamento non ricevere il rispetto che noi meritiamo. Lo scorso gennaio, dopo una lunga battaglia giudiziaria per il guardafuochi Salvatore Comandatore, per anni alla dipendenza di Archimede, la ditta che opera nel porto Isola Eni, il tribunale aveva deciso per la reintegra nel posto di lavoro. Ad oggi però nulla è cambiato e Salvatore non ha ricevuto alcun rimborso né tantomeno è stato reintegrato al lavoro. I magistrati avevano disposto che lo stesso comandatore avesse diritto a ritornare in servizio al porto Isola, escludendo ogni eventuale irregolarità anche rispetto alla percezione del TFR che invece Archimede SRL riteneva avesse percepito senza titolo. Il giudice Vincenzo Accardo aveva così deciso per l'illegittimità del licenziamento e aveva riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni in favore del dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello di effettivo reintegro. Reintegro che oggi non è arrivato, la questione dunque non è chiusa e probabilmente l'atto all'ARS sarà riproposto.